Il figlio di Bob, Tim. Di lui che potete dirmi? Il futuro è un immenso mistero per me quanto lo è per te. Posso solo mostrarti ciò che è. Cosa succede se tu non cambi? Beh, questo te lo svelerà presto qualcun altro. Oh, scusami. Senti, amico, non c'è alcun grande segreto in tutto questo. Devi solo fare del tuo meglio nel tempo che ti rimane. Ma è meglio che inizi subito, perché prima che tu te ne accorga, quel tempo che pensi di avere sarà trascorso. Sì, amico, non c'è alcuna.